Va beh, va beh, insomma, è una grande malinconia. Tutto è difficile, non che la mia vita sia difficile, tutto è difficile quando cerchi di fare qualcosa di sensato. Dai una casa a Morgan, non a Morgan perché ha bisogno di avere uno spazio in cui dormire, quello può andare in un albergo, ma perché possa creare, perché possa avere uno spazio. No, e trovi la Stefanizzi ed altri che dicono no, ma non vogliamo pagare le tasse per Borga, ma dove viviamo? È possibile che la poesia, la bellezza non appaiano necessarie, come con tante coglionate che vediamo, e uno capace di fantasia non sia un dono a una città. Ebbene, questo è il Surtro. Invece a Milano, mia sorella fa la milanesiana con molta tenaccia, e mi ha invitato, ha invitato suo fratello, per come ricorda che io le abbia raccontato tante cose dell'arte, a parlare di Michelangelo, come ho fatto altrove, alla Università dello Iulm, nell'auditorium, in via Carlo Bo a Milano. Venite, venite, non ripete i coglioni, sarò lì, incazzato come una belva.